Bene, a questo punto credo che abbiamo concluso i nostri lavori e non ci resta che pensare un po' al futuro. So che c'era un'ipotesi che Sonia aveva ventilato, di cui forse Monica ci potrà dare una traccia, perché credo che tra loro si siano parlate, cioè dell'idea di proseguire su questa strada pubblicando, se Monica ci dà la disponibilità, online i risultati di questa giornata, quindi ricalcare la strada. Vogliamo chiedere se avete delle commenti da fare o delle proposte operative alla fine di questo nostro incontro e poi appunto direi che possiamo accomodarci a bere qualcosa insieme, ma vorrei che le mie amiche concludessero il discorso. Dunque per quanto riguarda la possibilità di pubblicare gli atti anche in una forma sintetica, cioè una serie di abstract con schermate e link per raccogliere un po' il confronto anche di questi giorni, è un'idea così che è venuta fuori oggi, mi fa molto piacere che Lucia mi tratti come un editore, perché mi sento molto importante, in realtà io non sono un editore, sono uno di quei quattro gatti che vi ho fatto vedere stamattina e ci facciamo una rivista in casa con relativi by heft pure online. Proprio oggi sono stata energicamente richiamata all'ordine dalla mia redazione, che ha detto che ha dei progetti molto battaglieri, se questo vuol dire che sono disposti, dato che facciamo tutto in casa, a lavorare di più, io sarei molto contenta. Mi farebbe molto piacere, potrebbe essere un numero della rivista, oppure siccome stiamo facendo dei quaderni, un quaderno legato alla stessa rivista, quindi io devo sentire un attimo gli altri tre gatti e poi sarebbe bello poter fare... No, il vantaggio della rivista è che la cosa bella è che ce la gestiamo tutta da sola, è che è già online e chiederemo a tutti di dare una mano. Anche se ora la rivista avrà anche un esito cartaceo, da poco. Però la cosa bella sarebbe bella, sì appunto. Sarebbe interessante perché non trovo solo, ma avremo una specie di portale che parla di noi. Certo, io mi impegno a parlarne così, cioè avere una cosa, un sito online in cui questo resta e può essere anche oggetto di aggiornamenti, nell'ipotesi che possiamo magari ripetere a distanza di qualche tempo questo tipo di incontro, secondo me sarebbe molto bello. Infatti, una cosa molto semplice ma efficace dal punto di vista della consultazione, non diciamo molto teorica, più così. D'uso. Però appunto siamo disponibili a sentire proposte e commenti. Chiara. Sento Chiara. Che non ce l'abbiamo già, diciamo, di esistirire il database, che abbiamo un discorso qua, nel caso della mia istituzione, di aggiungervi alle fasi, in qualche fase, in qualche modo di indicare, in qualche modo, un link anche nel website del Warburg. Certo. Che sicuramente è interessato a tutti questi. Alcuni sono già presenti, altri forse perché magari non sono ancora del tutto disponibili, ma insomma, comunque pensare di... Certo, se ognuno fa questo, la cosa diventa sempre più... Fatto creiamo un portale, sostanzialmente. Ah, sì, fatto. Sarebbe un ottimo risultato. Magari anche indicare i propri modelli, no? Certo. Cioè, io muore, indicherò il census, ma tutti indicheremo il census, vabbè. Però, come vi ho detto, una cosa di intrecciata, in modo da vedere anche cosa circola. Potrebbe essere pratico. Insomma, vi faremo sapere. Allora, dal punto di vista operativo, adesso direi che vi invitiamo a bere qualcosa nella stanza del Granpriore per concludere i lavori e poi ci ritroviamo con chi non resta per cena verso le otto qui davanti. Cosa? Grazie. Posso fare un commento? Io spero, in nome di tutti, ringraziamo vivamente per questa iniziativa. Erano due giorni bellissime. Abbiamo imparato molto e dobbiamo continuare. Grazie a voi. Grazie.